Gli uffici della motorizzazione in Sardegna sono Alcon Lasso e quanto denuncia la CNA Fita regionale che chiede l'intervento del Ministero competente e della Direzione Centrale dei Trasporti. Secondo i dati in possesso dell'Associazione, l'organico degli uffici della motorizzazione nel 2019-2020 sarà ridotta all'osso. Sassari passerà a 15 dipendenti con una perdita di 25 unità in 10 anni. A Cagliari si prevede una riduzione da 36 a 27 unità. A Oristano ne arresteranno 13 senza tecnici che si occupino dei servizi revisioni e degli esami delle patenti. A Nuovo resteranno 10 dipendenti. Secondo la CNA Fita, a rischio c'è la sicurezza delle strade perché stanno andando in tilti il servizio revisione e mezzi pesanti. Nel 2016 i ritardi erano di 9 mesi, nel 2017 sono saliti un anno e mezzo, nel 2019 si è tornato a 9 mesi con la sospensione delle prenotazioni. Anche per questo il mondo dell'autotrasporto sardo è in agitazione. Al centro delle proteste, sottolinea l'Associazione, ci sono i disservizi e i sovracosti generati dagli uffici della motorizzazione civile. Il tutto acuito dalla nuova emergenza della sospensione delle revisioni e mezzi pesanti per carenza di organico annunciata nei giorni scorsi dagli uffici di Cagliari e Oristano. I vertici regionali della CNA Fita chiedono con urgenza sessioni straordinarie anche con tecnici di altre motorizzazioni, ma è improcrastinabile il bando di concorso, di assunzione o mobilità per restituire operatività e serenità agli uffici e agli utenti sardi. Da anni riceviamo le rimostranze di chi paga per un servizio inefficiente, nel nome di una spending review amministrativa che ha colpito duramente gli utenti finali, imprese e cittadini, in un'isola già messa a dura prova da deficit congiunturali e infrastrutturali, crisi economica, continuità territoriale, e rete viaria su tutti, pesanti come un macigno sulle circa 2.400 aziende sarde dell'autotrasporto che con difficoltà resistono, ha denunciato Francesco Pinna insieme a Valentina Codoneso, rispettivamente presidente e responsabile regionale di CNA Fita. L'associazione per questo ha notificato formalmente al Ministro della Direzione Generale Regionale dei Trasporti, all'Assessore regionale, alle prefetture sarde, la condizione di collasso degli uffici periferici e allo stato di forte preoccupazione degli operatori economici, vale a dire autotrasportatori e agenzie pratiche auto.